Questa sera parliamo di un service a livello nazionale che viene gestito a livello distruttuale dalla dottoressa Cetti Savino che è anche una socia d'Ainons, come abbiamo detto, del club di Perugia. Sarà una conferenza che sarà teorico ma anche dimostrerà qualcosa perché questo service nato nel 2011 è diventato un service nazionale per l'importanza e soprattutto perché può servire a salvare molte vite, soprattutto di bambini e anziani. La conferenza verrà svolta direttamente da Cetti Savino, poi aiutata nei vari momenti dall'altro socio Borgognoni e poi si passeranno la parola tra di loro. La termine delle due presentazioni ci potranno essere delle domande che vi prego di fare alzando la manina. Io poi in serie vi darò la parola quando ci avevamo tempo. Quindi darò la parola a Cetti e buona conferenza a tutti. Ok, allora grazie per avermi dato la parola, grazie per aver consentito la mia presenza qui. Perchè il Viva Sofia? Questo che è diventato, come già ha detto Gianpaolo Coppola, un service permanente di interesse nazionale. Perché volevo ricordare, se ancora ce ne fosse bisogno, qual è il ruolo di questo service e soprattutto vedere quali sono le attività che il comitato già dallo scorso anno ha svolto per aiutare quei club che volessero effettuare questo service e che magari si sentono non completamente pronti a poterlo effettuare. Intanto una breve storia. La storia del Viva Sofia, che è appunto il service sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare di base, nasce nel 2011 ed è stata proprio un'infermiera ad avere l'idea di questo service. Perché? Perché Sofia, sua figlia, saltellando di qua e di là mentre che appunto questa infermiera stava cucinando, aveva ingerito un gamberetto e questo gamberetto gli è andato di traverso. Ovviamente stava soffocando. La mamma, fortunatamente infermiera, pratica la manovra di Emlich e salva la bambina. Siccome questa infermiera era un'infermiera del 118, il giorno dopo si riferisce a Daniele Donigaglia che tra l'altro è un Lions di Faenza e propone il corso Lions. Il consiglio direttivo del Lions Club di Faenza, Valli Faentine, approva il service e a gennaio 2012 si effettua il primo corso per la popolazione. Ricordo che il primo corso ha avuto una durata di un quarto d'ora ed è stata esposta esclusivamente la manovra di Emlich. Ovviamente è fatta sia nei lattanti, nei bambini che negli adulti. Con il tempo il service si è allargato con la dimostrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e questo è logico perché fin quando il soffocamento è un soffocamento parziale la sola manovra di Emlich può essere sufficiente, ma quando il soffocamento è totale e il bambino o l'adulto perde conoscenza sono necessarie effettuare le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare. Questa è la squadra, io sì sono il coordinatore ma c'è un rappresentante per ogni circoscrizione. Con tutti loro abbiamo lavorato e abbiamo cercato di produrre del materiale per far divulgare il service Viva Sofia e soprattutto per mettere nelle condizioni tutti quanti i club a poter effettuare questo service. È importante e poi lo vedremo successivamente perché il soffocamento, le manovre per ridurre, per eliminare un soffocamento sono manovre che devono essere effettuate rapidamente perché nell'alco di quattro minuti si fa la vita, si salva o no la vita di una persona. A questo punto io mi fermerei, lascerei la parola a Francesco Borgognoni che vi parlerà appunto della manovra di AMLIC e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Una parola però vorrei dire, ho scelto Francesco per due motivi ma avrei potuto scegliere qualsiasi altro dei componenti del comitato del Viva Sofia. Il motivo per cui ho scelto Francesco Borgognoni è una vicinanza geografica. Francesco fa parte del Lions Club di Assisi ma anche e soprattutto Francesco è il coordinatore regionale del 118 e a lui sono affidati tutti quanti i corsi di rianimazione cardiopolmonare e quindi mi scuso con gli altri ma mi è sembrata proprio la persona più adatta per poter partecipare dal vivo. Francesco a te. Grazie, buonasera a tutti, grazie Ketty per le belle parole. Allora, io devo condividere, penso, ecco, vediamo un po' se sono capace. Allora, condividi schermo, vediamo, condividi, ok, si vede? Bene, sì. Perché io non vedo nulla, quindi non so che cosa, quello che dovresti... Io non vedo assolutamente niente. Però Francesco, se lanci la presentazione noi la dovremmo vedere. È aperta, la presentazione è aperta sul desktop. Eh no, non lo vediamo. Io vedo uno firmo ma non credo che sia il tuo. No, quello che... Io quello che posso... Allora, riparto... Vai partire prima la presentazione, poi condividi. Ok, la presentazione è partita. Adesso condividi e lui ti chiede quali degli schermi che puoi condividere e vuoi condividere. Clicca su quello che ti puoi condividere. Stirmo intero. Stirmo intero. Eh, quello che ho fatto anche prima, poi condividi. Ecco. Perfetto. Adesso l'ha preso, adesso l'ha preso, perfetto. Allora, lo metto... Ok, quindi lo vedete? Sì. Bene. Allora, intanto, ripeto, grazie a tutti per l'invito. E questo service, come ha già accennato Ketty, è estremamente importante. Io lo sto facendo ormai da diversi anni nella mia zona e ogni anno più o meno riesco a farlo a 250-300 persone circa. E sono per lo più ragazzi delle scuole di vario grado. È molto importante perché la manovra di disostruzione e la manovra di reanimazione cardiopolmonare sono estremamente legate in quanto assolutamente tempodipendenti alla possibilità che una persona presente in loco inizi queste manovre. Perché? Perché purtroppo l'ipossia, quindi la mancanza di ossigeno che si verifica a livello cerebrale, può essere tollerata per una manciata di minuti. 4-5 minuti dopo questo tempo le cellule cerebrali cominciano i loro processi degenerativi e dopo 8-10 minuti la necrosi, quindi la morte cellulare cerebrale, è irreversibile. È per questo motivo che le speranze di sopravvivenza di questi malcapitati soggetti sono legati più alla presenza di un soccorritore occasionale locale che non ha un sistema di emergenza che dovrà fare la sua parte ma che non è pensabile che possa arrivare in 3-4 minuti dal tempo zero in cui si verifica l'evento. E questa è una premessa importante perché giustifica il fatto di questa diffusione che deve essere fatta. Continuate a vedere le slide che passano avanti? Sì. Ok. Abbiamo dei numeri estremamente importanti perché per quello che riguarda l'ostruzione delle vie aeree stiamo parlando per lo più di una fascia molto giovane bambini e ragazzini e come vedete una cinquantina di morti l'anno sono stimati entro i 14 anni. E soprattutto perché stiamo parlando questa sera di queste tematiche? Perché purtroppo la situazione in Italia direi è disastrosa infatti se escludiamo il personale sanitario che si spera bene conosca le manovre il resto della popolazione che sa fare queste manovre è meno dell'1% il che significa che noi dobbiamo agire affinché un vasto numero di persone possa essere preparata per fare queste manovre. Questa formazione deve entrare nella coscienza delle persone far cambiare il comportamento delle persone perché purtroppo, e io lo vedo nella pratica di tutti i giorni non è proprio detto che chi si trovi in quel momento poi faccia queste manovre anche se magari è stato addestrato a farlo subentrano vari stop per cui è fondamentale far capire alla gente che se non fa qualcosa il soccorritore occasionale le possibilità di sopravvivenza decrescono in modo importante Nel parlare di ostruzione delle vie aeree con la età massima di incidenza da due mesi a due anni vedete che la parte più cospicua dei casi è rappresentata da cibo ma non è da escludere nemmeno diciamo inalazioni accidentali legate a giochi che magari vengono presi da bambini anche molto piccoli molto piccoli magari sono i giochini del fratellino più grande poi da questi giochi si stacca un pezzo e viene inalato perché la fascia 0-3 anni è più a rischio ma perché intanto ci sono motivi anatomici per le vie aeree tra un attimo lo vediamo che sono diverse da quelle dell'adulto in più c'è ancora una certa incapacità a masticare i denti sono ancora provvisori la deglutizione non è ancora efficiente per cui ecco spiegato perché questa fascia di età 0-3 anni è la fascia più a rischio qui vedete una sezione molto schematica delle vie aeree a sinistra dell'adulto in pratica la trachea è un cilindro che ha il suo diametro più o meno costante dall'inizio fino a quando non si divide nei due bronchi principali mentre a destra nel bambino vedete come questa trachea sia fatta a cono, a imbuto e questo fa sì che più il corpo estraneo va in profondità più si incastra, più è difficile poi rimuoverlo naturalmente vedremo dopo le cose da fare ma in prima battuta bisogna pensare anche alla prevenzione prevenire meglio che curare questo è un detto di sicuro valido in tutti i campi una volta i nostri vecchi almeno a casa mia mi dicevano sempre quando si mangia si sta seduti per bene poi si va a giocare non avevano fatto i miei nonni o i miei genitori questi corsi ma è reale il concetto è reale perché statisticamente il fatto di mangiare e dedicarsi ad altre attività in contemporanea è un fattore predisponente così come è un fattore predisponente tenere in bocca oggetti che non sarebbero idonei per l'età molto piccola vedi la gomma da masticare vedi palloncini che rompendo si possono diciamo essere inalati almeno in parte e poi anche una cura da parte della famiglia dei genitori nello sminuzzare i cibi in alto a destra vedete un vero killer che è il prosciutto il prosciutto micidiale quando il corpo estraneo è rappresentato da prosciutto si complica tutto perché è difficile poi estrarlo in ogni caso c'è da aumentare un po' anche la consapevolezza nelle famiglie di una gestione corretta dell'aspetto di nutrizione quando è il momento di stare insieme a tavola le ostruzioni possono essere di due tipi ostruzione parziale e ostruzione totale che cosa significa? lo dice la parola ostruzione parziale significa che una parte di trachea è occupata ma una parte è libera questo significa che un flusso aereo può comunque fluire all'interno delle vie aeree il paziente tossisce emette suoni piange se è un bambino e respira con difficoltà avrà un tono di voce completamente alterato in questo caso va incoraggiato a tossire manovre dirette sull'ostruzione parziale è meglio non farle perché la possono trasformare in un'ostruzione totale mentre la cosa drammatica è l'ostruzione totale l'ostruzione completa in cui il paziente non ha più un flusso aereo questo significa che il paziente non parla non tossisce non si lamenta non piange non fa assolutamente nulla vediamo che cosa si fa nelle varie fasce di età ostruzione totale nel lattante cosciente come vi dicevo non tossisce non emette suono smette di respirare diventa rapidamente cianotico certamente va chiamato il 112 dal 2021 in Umbria anche c'è il 112 quindi va chiamato il 112 e però dobbiamo subito porre in essere alcune azioni in attesa che arrivi l'emergenza sanitaria queste azioni sono quelle che caratterizzano e concretizzano le manovre di sostruzione delle vie aeree vedete raffigurata la presa che viene fatta in un lattante il lattante ci tengo a ricordare che è da 0 a 12 mesi quindi è il primo anno di vita vedete che la mano va a prendere il visino del bimbo quasi facendo una C questo perché deve tenere il capo come vedete in questa slide in posizione neutra cioè a dire né flesso né esteso in questa posizione neutra il diametro delle vie aeree è il massimo possibile e quindi in questo caso diamo una probabilità maggiore che le manovre di sostruzione abbiano successo la prima manovra è quella di dare delle pacche intercapolari come vedete nella fotografia tenendo il torace del bambino appoggiato sull'avambraccio e l'avambraccio appoggiato sulla coscia per fare questo è sempre opportuno stare o seduti o se non abbiamo modo di avere una seggiola quantomeno in ginocchio la testa deve essere lì una cosa che si interrompo non c'è Ida Panusa che sta condividendo puoi chiuderla Ida Ida c'è una condivisione chiudi la tua condivisione hai condiviso lo schermo per cortesia cancellalo perché non vediamo ecco ok Francesco dovresti ricondividere la presentazione per piacere allora rivado subito condividi schermo intero condividi ok 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 ecco va bene ok ok vedete la posizione corretta che deve essere tenuta nei confronti del tantino quindi torace appoggiato all'avambraccio avambaccio sulla coscia capo in posizione declive rispetto agli arti inferiori si somministra queste cinque pacche inter scapolari come vedete in nella fotografia e subito dopo aver completato queste cinque pacche si gira il bambino questa volta è supino la testa sempre in posizione neutra e si fanno cinque compressioni toraciche in regione esternale quindi questo è il protocollo di cinque pacche più cinque compressioni toraciche lente e profondo fino a che il corpo estraneo è stato rimosso o fino a che se non è stato rimosso il bimbo diventa asfittico e quindi incosciente nel bambino più grandicello la problematica dell'ostruzione totale è identica quindi il bambino che ha un'ostruzione totale non tossisce non emette alcun suono smette di respirare diventa asfittico e anche qui chiamare immediatamente il sistema dell'emergenza ma iniziare altrettanto rapidamente la manovra di disostruzione che nel bambino è rappresentata dalla manovra di Heimlich che vedete nella illustrazione in pratica come si fa vedete si va a identificare quello spazio che va tra sterno e ombelico in regione epigastrica facendo una specie di C con la mano all'interno di questa area metteremo il pugno chiuso della nostra mano come vedete nella illustrazione e l'altra mano a coprire la prima facendo questa tenendo questa posizione da qui facciamo delle compressioni in senso antero posteriore e verso l'alto facendo una specie una specie di movimento a cucchiaro ripetendolo continuamente fino a disostruzione avvenuta o purtroppo se non questo non accade fino a che il bambino diventa asfittico e incosciente nell'adulto la manovra è identica è sempre una manovra di Heimlich ovviamente cambiano le corporature quindi nell'adulto la faremo in piedi nel bambino in base alla statura e alla corporatura la potremmo fare in ginocchio o accovacciati mentre nell'adulto dalla stazione è retta e la manovra è esattamente identica una volta che il lattante e il bambino sono diventati incoscienti si adagiano a terra o su un piano rigido e si comincia il protocollo di animazione cardiopolmonare che consta diciamo in modo fondamentale nelle compressioni toraciche che vengono fatte allo scopo inizialmente di cercare comunque di di sostruire le vie aeree e laddove il circolo si sia fermato per motivi aschittici servono a quello che la rianimazione cardiopolmonare serve nella nella persona cioè a rimettere in circolo un quantitativo di sangue affinché possa ossigenare le cellule cerebrali così da non mandarle a morte in quella manciata di minuti che vi dicevo all'inizio all'inizio vi dicevi vi facevo vi sottolineavo quanto queste manovre devono essere fatte molto rapidamente perché purtroppo il danno cerebrale è relativo ai prissimi minuti e dopo una decina dodici proprio a dire di essere ottimisti la morte cerebrale diventa irreversibile voi considerate anche che un paziente in arresto cardiaco che non viene sottoposto a manovre di rianimazione riduce la sua sopravvivenza di un circa 10% per ogni minuto che passa il che significa che se noi consideriamo la possibilità che venga rianimato dai soccorsi sanitari considerando che in 7 8 10 minuti dalla chiamata ci vogliono anche in funzione della localizzazione geografica ma insomma 8-10 minuti anche se siamo in ambito cittadino ci vogliono voi capite bene che la sopravvivenza si riduce tantissimo mentre si può aumentare con una rianimazione cardiopolmonare precoce ma soprattutto con un utilizzo precoce del defibrillatore vediamo un attimo queste manovre poi vi spiegherò anche l'importanza del defibrillatore il BLS Basic Life Support Pediatrico è appunto quella rianimazione cardiopolmonare di cui vi stavo parlando perché la compressione del torace produce a livello cardiaco un flusso artificiale di sangue che si è bloccato in virtù del fatto che il cuore ha smesso di battere questo garantisce una ossigenazione d'emergenza che non è quella ottimale ma che è sufficiente a ritardare notevolmente il rischio della nosia cerebrale questa è la posizione che dobbiamo assumere con le mani a livello del torace due mani in genere sono nell'adulto le due mani sono poste in corrispondenza dello sterno perché la compressione deve esercitarsi a livello dello sterno e non a livello delle coste perché le coste purtroppo non offrono una resistenza adeguata e quindi potremmo andare incontro a fratture delle coste mentre lo sterno non ha di questi problemi essendo un osso estremamente più rigido nel bambino può essere sufficiente una sola mano in funzione di quanto è grande il torace e dopo le prime 30 compressioni ci sarebbero le due ventilazioni quindi il protocollo di rianimazione cardiopolmonare una volta stabilito che il paziente è in arresto cardiaco e quindi non ha coscienza non ha attività respiratoria e non ha attività di circolo intesa come movimenti evidenti del corpo o di parti di esso una volta che abbiamo fatto questa presunta diagnosi dobbiamo iniziare con le compressioni toraciche 30 compressioni poi ci fermiamo a fare due ventilazioni bocca a bocca se non abbiamo altri strumenti di barriera le ventilazioni bocca a bocca si chiamano così perché la bocca del soccorritore si appoggia sulla bocca della vittima una mano tiene chiuse le narici si soffia in maniera tale da vedere proprio il torace espandersi e questo è il segno inconfondibile che aria sta entrando nei polmoni non tutti sono propensi a fare le ventilazioni per vari motivi se non si fanno le ventilazioni si fanno le sole compressioni a quel punto non saranno più 30 ma saranno continuative fino a che non arrivano i soccorsi e questo è il modo in cui si ventila vedete che il capo va esteso vanno chiuse le narici e poi la bocca appoggia sulla bocca della vittima per insufflare lentamente e profondamente il quantitativo d'aria sufficiente a far muovere in alto il torace tutto questo serve a come dire a mantenere vivo il cervello e anche in parte il miocardio e a mantenere uno stato cosiddetto di fibrillazione ventricolare che rappresenta il più delle volte il ritmo di esordio di un arresto cardiaco fibrillazione ventricolare che in pratica è rappresentata da un ritmo caotico elettrico che non produce alcun movimento meccanico del cuore quindi il cuore non è spinto elettricamente ma è in arresto comunque cardiaco perché non essendo sincronizzato non produce alcun movimento questo stato è la fibrillazione ventricolare e la terapia come lo dice la parola qual è? è quello di usare il prima possibile un defibrillatore dico il prima possibile perché perché anche in questo caso le possibilità di successo decrescono con il passare dei minuti quindi da qui l'importanza duplice da una parte che la gran parte della popolazione la massima parte della popolazione sia inonia sia stata formata per fare la rianimazione cardiopolmonare quindi il massaggio cardiaco quantomeno il solo massaggio cardiaco e lo stesso di avere un'ampia rete di defibrillatori e con relativa formazione estesa a gran parte della popolazione perché così facendo si riducono i tempi di intervento si aumentano le probabilità di sopravvivenza vi cito solo un esempio che qui non c'è ma ve lo dico direttamente è stato fatto uno studio da parte di alcuni ricercatori sono andati in alcune città degli Stati Uniti a valutare i registri degli arresti cardiaci per vedere che fine avevano fatto queste persone rianimate su strada ebbene in alcune città i risultati erano decisamente devastanti perché si aveva una sopravvivenza Sieno del 5% mentre in altre città per esempio Seattle la sopravvivenza era del 53-54% capite che la differenza fra 5% e 54% è importante dove sta l'inghippo molto semplicemente perché nelle prime dove la mortalità era altissima e la sopravvivenza molto bassa le manovre di rianimazione cardiopolmonare venivano fatte dagli equipaggi delle ambulanze che arrivavano di lì a 10 12 15 minuti mentre a Seattle esisteva già da decenni un programma scolastico di insegnamento di formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare in più era partito anche un progetto di defibrillatori di pubblico accesso per cui la città ne aveva tantissimi nei vari punti strategici della città e questo giustifica una sopravvivenza così elevata rispetto alle altre città in Italia non siamo messi benissimo abbiamo intorno a un 30% 30-35% di popolazione che sa teoricamente fare una rianimazione cardiopolmonare ma poi vi garantisco che è esperienza mia di centrale operativa quando gli si va a dire di farla cominciano i problemi motivo per cui nel 2021 la legge 116 ha stabilito da una parte che ha ribadito che l'uso del defibrillatore per quanto possibile deve essere dato alle persone che hanno fatto un'adeguata formazione ma ha anche detto che se c'è un defibrillatore automatico c'è un arresto cardiaco non c'è nessuno che lo sa usare tramite la centrale operativa è possibile anche che l'operatore non formato possa anche venire a usare possa anche usare il defibrillatore sotto la guida in diretta della centrale operativa l'articolo 54 del codice penale c'è sempre stato è quello che sancisce lo stato di necessità e che quindi la non punibilità delle azioni connesse con queste manovre salva vita d'altro canto se è vero che se abbiamo un estintore tutti più o meno lo prendono e cercano di usarlo per quale motivo se abbiamo a disposizione un defibrillatore e c'è una persona in arresto cardiaco non possiamo fare la stessa la stessa cosa anzi le lesioni da ustioni caratterizzano circa 400-500 casi l'anno i casi di arresto cardiaco sono circa 55-60 mila all'anno che detto così è già un grande numero ma se vi divertite a prendere la calcolatrice e a dividere 60 mila per 365 giorni per 24 ore al giorno eccetera trovate il dato sconcertante di un arresto cardiaco ogni 10 minuti sul suolo italiano è una guerra quindi è una guerra vera e propria e quindi proprio per questo dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili immaginabili per da una parte instillare il virus della conoscenza soprattutto nei ragazzi soprattutto nei ragazzi ma anche istruire larghe fasce di popolazione affinché coloro che purtroppo vanno in arresto cardiaco o nei casi di costruzione delle vie aeree possano avere la massima possibilità la massima probabilità di sopravvivenza e quindi siccome tutti possono farcela cominciamo noi a dare il buon esempio ecco credo più o meno di essere stato abbastanza nei tempi e se ho sforato qualcosa scusatemi ripasso la parola vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Chetti grazie grazie Francesco allora adesso condivido il mio schermo allora secondo me il messaggio chiaro che è avvenuto dal tuo intervento è stato quello che le manovre di lo vedete le diapositive scusate faccio una domanda perfetto allora il tuo messaggio è stato questo che intanto le manovre di sostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare se presentate da un artista come sei tu diciamo che non ci farebbero sentire inadeguati o perlomeno non farebbero sentire inadeguati la popolazione e potrebbe anche se in maniera in parte maldestra potrebbero essere utilizzate nel momento di necessità questo è un messaggio l'altro messaggio è quello che abbiamo la necessità di divulgare queste nozioni divulgarle a tutta la popolazione e soprattutto ai giovani perché il giovane che conosce queste manovre ha un bagaglio che sta dietro per tutta la vita e allora lo scopo è stato lo riassumo su questa diapositiva perché è mai stato già detto da Francesco fornire le conoscenze sulle procedure utili alla salvaguardare la vita in attesa del personale del 112 o del 118 questo è quello che si dovrebbe fare nel service viva Sofia la sensibilizzazione è di tutta quanta la popolazione quindi formare genitori nonni educatrici delle scuole primarie degli asili nido e dell'infanzia e gli studenti delle scuole superiori ed è per questo che la scuola è la sede di elezione di svolgimento di questo service anche perché proprio questo anno il service viva Sofia è stato inserito nell'area giovani e nell'area scuola lo scorso anno per esempio fino allo scorso anno era nell'area sanità sanitaria effettivamente nell'una o nell'altra sede comunque il viva Sofia è appropriato anche perché tengo a sottolineare che è vero che l'età a rischio è quella da zero a tre anni come ha detto Francesco è vero che il cibo è il corpo ostruente più frequente ma questi sono gli oggetti asportati chirurgicamente o recuperati dai bambini che inalano questi oggetti questa è una diapositiva che avete già visto da Francesco circa 50 morti all'anno entro i 14 anni e le manovre di disostruzione vengono proprio dal fatto che ancora le vie aeree non sono completamente sviluppate però l'altra fascia di età che può essere può facilmente andare incontro all'ostruzione delle vie aeree è quella degli anziani gli anziani perché perdono il riflesso parziale della deglutizione e quindi anche la masticazione non è più completamente efficace e quindi è più facile poter avere un'ostruzione delle vie aeree ed è per questo che allora i giovani sì devono essere educati ma effettivamente tutta quanta la popolazione ha necessità di conoscere queste manovre per poterle mettere in atto nel caso di necessità e abbiamo visto che noi siamo abituati a delegare al sistema sanitario nazionale e ai sanitari tutte quante le manovre diagnostiche e terapeutiche per la nostra salute ma è altrettanto vero che dobbiamo avere un'assunzione di responsabilità in questi casi in cui chiunque si deve sentire obbligato a svolgere il proprio ruolo quindi dove effettuare Viva Sofia nelle scuole di qualsiasi ordine e grado che è la sede naturale e anche la prima sede dello svolgimento di questo service tuttavia però siccome dobbiamo cercare di è necessario cercare di educare la maggior parte di popolazione possibile anche per esempio durante un evento Lions dedicato alla salute lo scorso anno io ho visto che molti club hanno effettuato questo service in una giornata in cui si faceva lo screening di diabete oppure qualsiasi altro tipo di screening dedicato alla salute nei centri commerciali negli ultimi anni ci sono state delle convenzioni tra i Lions club e i centri commerciali dove poter effettuare qualsiasi tipo di service e anche il Viva Sofia può essere un service che richiama soprattutto in un centro commerciale che normalmente è affollato di persone di qualsiasi età per poter appunto raggiungere tutta quanta la popolazione qualche club soprattutto del romano ha fatto il service effettuato il service nei mercati rionali oppure sulle spiagge o comunque io sottolineo questo durante i Lions negli ultimi anni hanno donato dei defibrillatori e allora perché non agganciare il service Viva Sofia durante la cerimonia di donazione di un defibrillatore come avete visto da Francesco in realtà la presentazione di quelle diapositive è stata una presentazione che ha avuto una durata di un quarto d'ora 20 minuti beh noi potremmo fare un service ed educare la popolazione in questo tipo di cerimonia non rendola esclusivamente legata alla donazione del defibrillatore ma anche alle modalità di utilizzo dello stesso chi può effettuare il service Viva Sofia? sicuramente tutti i medici del club non esiste credo un club che non abbia come socio un medico e il medico deve ha le competenze per poter effettuare questo tipo di service qualche club pensa no qualche molti club e poi ve lo dico perché l'anno scorso ho fatto un censimento di tutti contattando tutti i presidenti dei club del distretto per cercare di capire qual era la motivazione per cui il Viva Sofia non era un service ampiamente effettuato perché molti di loro avevano detto che non avevano la capacità di poter coinvolgere i medici del 118 o della Croce Rossa italiana perché intanto i medici del 118 e della Croce Rossa così come le associazioni della misericordia o i cavalieri dell'ordine di Malta sono certificati per le manovre di rianimazione cardiopolmonare e sono anche hanno anche il manichino come per poter fare l'esempio della rianimazione cardiopolmonare sta di fatto che è vero che se noi facciamo un service coinvolgendo il 118 e la Croce Rossa italiana il service viene più completo e anche effettuato da persone che lavorano e che conoscono perfettamente questo tipo di manovre ma anche il medico del club soprattutto se ha le diapositive a sua disposizione le diapositive che evidenziano questo tipo di come effettuare queste manovre può fare tranquillamente il service se anche il club da solo se si vogliono riunire più club anzi sarebbe ottimale poter avere un service in inter club o addirittura come evento di zona perché così vengono coinvolte più personale sanitario dei soci dei vari club e vengono coinvolte più persone considerando anche soltanto i soci questi 4 minuti 10 12 minuti come ha detto Francesco sono già stato stressato come notizia quello che voglio dire e mi avvio alla conclusione è questo il censimento che io ho fatto l'anno scorso nel distretto con i presidenti di club del distretto ha messo in evidenza che solo il 13% dei club effettuavano il Viva Sofia in realtà più o meno è la media nazionale la media del multidistretto perché parlando e interfacciandomi con Dario Angiolini che lo scorso anno è stato anche quest'anno a dire la verità è stato il coordinatore multidistrettuale del Viva Sofia la media del multidistretto è il 12% quindi fondamentalmente anche il nostro distretto è in linea con gli altri distretti in realtà il 13% è troppo poco e quindi lo scorso anno quando ho cercato di affrontare questo tipo di problematica in maniera metodologica e scientifica come mi è congeniale per il lavoro ho fatto a tutti i presidenti di club la stessa domanda qual è il motivo per cui non si prende in considerazione il Viva Sofia nel programma laionistico allora in parte legato a una sensazione di una parte l'anno scorso era legata al fatto che i club non avevano ripreso dopo il periodo della pandemia l'effettuazione del service e questo era ovvio ed era un dato di fatto l'altro però era appunto questa sensazione di inadeguatezza a poter gestire le manovre di distruzione delle vie aere e della rianimazione cardiopolmonare solo con i medici del club cioè con medici non anestesisti e non rianimatori ma come vedete come vi ha fatto vedere Francesco in realtà l'esposizione di come effettuare le manovre non è un compito particolarmente difficile e tutti i medici lo possono fare le diapositive che avete visto da Francesco insieme a tante altre sono le diapositive del multidistretto che sono state confezionate lo scorso anno e riguardate anche per quest'anno poi noi del comitato lo scorso anno abbiamo anche perché qualche persona che partecipa al service ce lo aveva chiesto abbiamo fatto anche un attestato di partecipazione questo attestato di partecipazione può essere dato a tutti le persone che seguono che seguono questo service la cosa importante e lo vedete scritta sull'ultima riga che l'attestato non certifica la sola partecipazione al corso ma non certifica la competenza del corsista perché anche questa è una cosa da sottolineare noi in qualità di Lions nel Viva Sofia non dobbiamo certificare la popolazione dobbiamo soltanto dare delle informazioni utili per poter agire qualora ve ne fosse la necessità quest'anno siamo andati ancora più avanti siccome io sono dell'idea che conoscere è una cosa buona ma ripassare le conoscenze è altrettanto necessario abbiamo pensato di poter fare un promemoria delle delle manovre di quello che viene descritto nel service Sofia due pagine un foglio a quattro piegato a metà e quindi quattro paginette dove vengono riportate la manovra di Heimlich la rianimazione cardiopolmonare da consegnare a tutti quanti i quelli che hanno partecipato al Viva Sofia perché possano in qualche modo ripassare e ricordare quello che hanno visto nel qui visto nel service questa diapositiva sottolinea ancora una volta il fatto che dobbiamo fare qualcosa ed è per questo che il Viva Sofia se a mio modo di vedere è un service molto importante più portiamo la popolazione alla conoscenza di questo tipo di manovre meglio proprio meglio è e questo sia per le manovre di distruzione che per la rianimazione cardiopolmonare e concludo con questa diapositiva Viva Sofia non è un corso di certificazione quindi non sostituisce i corsi di BLS che fanno gli operatori e i laici operatori medici e i laici è un aiuto efficace per affrontare un caso di emergenza deve dare fornire informazioni semplici ma utili per poter agire e noi Lions abbiamo questa possibilità avere la capacità di diffondere in maniera capillare in tutti quanti gli ambiti queste conoscenze concludo ancora con questa diapositiva questo è il team con il quale sia l'anno scorso anno che quest'anno abbiamo lavorato per poter avere tutte per poter dare tutte queste informazioni ai club qualcuno ho visto nella chat che ha scritto dove reperire questo materiale allora già da settembre scorso io ho inviato a tutti i presidenti di zona e a tutti i presidenti di circoscrizione questo materiale con la preghiera di poterlo girare a tutti i presidenti di club quindi teoricamente tutti i presidenti di club dovrebbero avere già questo materiale sta di fatto che ognuno di noi dei componenti del comitato del Viva Sofia ma io personalmente sono disponibile a poter fornire tutto il materiale che voi avete visto diapositive checklist per l'effettuazione del service attestato di partecipazione a chiunque voglia richiedermelo e io grazie grazie Ketty per la presentazione molto diciamo articolata soprattutto e anche Francesco che ci ha dato anche nozioni più tecniche e io approfitto della presenza del primo vice governatore Graziella Loddo perché voleva salutare tutti quanti noi presenti Graziella Buonasera a tutti grazie Gianpaolo di avermi dato la parola è un piacere stare con voi e seguire questa questa formazione che la trovo interessantissima intanto ringrazio te Gianpaolo per il tuo incarico quale direttore dell'accademia che trovo veramente interessante un'opportunità di fare una formazione continua e quindi di accrescere le nostre le nostre conoscenze e questa sera desidero anch'io complimentarmi con Katie e con Francesco per l'esposizione chiarissima di questo service che è un service salvavita e concordo con voi che pochissime persone sono documentate per come eseguire le manovre e noi tutti dovremmo responsabilizzarci maggiormente ad apprendere queste manovre che sembrano semplici ma nella loro semplicità sono veramente utili e fra l'altro sono delle manovre che dobbiamo eseguire immediatamente come appunto avete detto voi perché devono essere eseguite proprio in pochissimi minuti per cercare di salvare la vita della persona che soffre in quel momento di ostruzionismo alle vie aeree per cui vi ringrazio ecco della disponibilità del tempo e anche di tutte le informazioni che ci avete fornito ringrazio nuovamente Gianpaolo e tutti i partecipanti perché veramente ci disponiamo ad una crescita e ad una condivisione del sapere che possiamo mettere sempre a profitto al servizio di chi è nel bisogno grazie dell'attenzione grazie a te graziella è importante la presenza dei governatori dei vice governatori in questi eventi perché così si comprende veramente l'utilità dello strumento che abbiamo messo in piedi con un po' di fatica ma diciamo con molta volontà e io adesso e tanto cuore quello ci assente grazie beh diciamo che in questo momento volevo sapere se c'è qualche domanda da fare io non vedo nessuna manina alzata eccola Maurizio Brugnetta prego a te la parola devi accendere il microfono pronto devi accendere il microfono ecco sentite grazie grazie io saluto ancora Gatti Savino miei amici conterrani e Francesco Borgognoni che di recente ho visto all'elisoccorso di di Foligno quindi ci conosciamo allora io volevo anche portare una testimonianza proprio molto credo utile anche a tutti voi e a quelli che vorranno fare questi corsi perché noi a Todi dalla prima volta dalla prima esperienza del Viva Sofia che abbiamo fatto alle scuole medie diciamo è riuscita così bene che la stiamo facendo da più di dieci anni cioè ogni anno quindi noi abbiamo individuato questo target che volevo anche condividere con voi cioè scuola media terza media perché sono sufficientemente grandi per comprendere cioè tutto il ciclo e l'abbiamo un pochino estesa come primo soccorso quindi noi lo proponiamo siamo cinque medici del club Todi Lions tutti con specialità differenti quindi noi proponiamo un primo soccorso dove abbiamo il chirurgo che parla delle ferite le prime le nozioni base abbiamo un altro collega che parla delle ustioni io che faccio appunto per la specialità la BLS quindi l'emnich e le manovre di sostruzione ci appoggiamo alla Croce Rossa locale perché io da molti anni collaboro come direttore sanitario ci porta il manichino loro ci prestano il manichino e facciamo molta parte pratica alla fine cioè noi impieghiamo una metà giornata nella scuola nel presso scolastico che è un presso che da Todi però abbraccia anche altri paesi dintorni altre quattro cittadine come Pantalla Frattatotina con l'azione quindi noi facciamo terza media con le altre e quindi riusciamo a fare più di 200 quindi e questo lo facciamo ogni anno e quindi perché? perché è stata accolta in maniera vi lo dico straordinaria dal preside e dalle insegnanti perciò io invito tutti e quindi noi esteso un pochino oltre alla distruzione al BLS i ragazzi di terza media guardate io mi sono meravigliato perché faccio i corsi anche alla Croce Rossa ma così per una prima volta che loro provano sul manichino è la cosa che a loro piace più perché è la prova pratica e è la cosa a cui si impegnano maggiormente e quindi dopo una sola lezione voi vedete che loro sanno massaggiare sanno fare le manovre l'insufflazione cioè hanno capito e vi posso dire che una volta hanno raccontato che dopo aver capito e fatto l'EMNIC un ragazzo in una scena l'ha fatto in un ristorante l'ha saputo disostruire e questa credo per noi diciamo è la soddisfazione maggiore e quindi io ringrazio anche perché ho visto c'è del materiale nuovo che non sapevo cioè noi l'abbiamo fatta da noi tutte le diapositive ognuno per quella specialità diciamo quella poco però io sicuramente utilizzerò che noi ci abbiamo già le date da gennaio a marzo già fissate per quest'anno saranno sei in due comuni siamo andati anche fuori del nostro comune quindi ringrazio anche i colleghi e sicuro che ti utilizzerò anche le diapositive belle perché ho visto perché per ora non ce l'avevamo come il Lion quindi abbiamo fatto noi solo la la presentazione va bene se non ce l'hai chiedimele che te le invio grazie grazie Maurizio ci sono altre domande o altre osservazioni bene vedo che la scena ci aspetta allora ringrazio ovviamente Ketty e Francesco della loro della loro relazione soprattutto della chiarezza con cui hanno esposto un software è un tema molto dedicato che può ovviamente darci una mano a salvare qualche vita visti i numeri che abbiamo che sono spaventosi quindi per ora vi ringrazio comunque mi complimento con voi ringrazio tutti quanti i presenti e vi ricordo che l'unico prossimo abbiamo un altro evento che parla di intelligenza artificiale non saltiamo un lunedì ma abbiamo un lunedì consecutivo e avremo un intervento sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale vi avevo detto una precedente nostra del 14 ottobre che avremmo parlato ancora di intelligenza artificiale ormai è un tema sulla bocca di tutti e quindi è importante che cerchiamo di capire come la sicurezza possa essere non dico migliore ma almeno cerchiamo di avere delle idee per come difendersi da un elemento che diventerà predominante nel prossimo futuro avremo un intervento di un produttore universitario quindi vi invito compatibilmente con i vostri impegni a partecipare anche lunedì prossimo alla stessa ora ringrazio ancora tutti quanti presenti e vi auguro una buona serata grazie buonasera a tutti buonasera buonasera